Grazie a tutti. 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 Noi saremo sempre pronti ad andare in Clarea perché è là che c'è la lotta. È la Clarea adesso che ci aspetta. La Valle di Susa non è soltanto dove è geograficamente. La Valle di Susa ormai è dovunque si lotti e la lotta, come possiamo vedere, è rimasta. Non c'è più silenzio. Non c'è più rassegnazione. E quindi non ci resta che dire andiamo avanti. La Valle di Susa paura non ne ha. La Valle di Susa la libereremo anche se sarà dura. Ma sarà dura soprattutto per loro. Loro che sono deboli, fili e usano la violenza e la prepotenza contro il diritto di tutte e di tutti. Mina, libera, 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 libera la nostra vita, libera dall'oppressione, libera dalla scherittura. Fuori le compagne dalle galere, dentro tiriamo col tuo cantiere. Fuori le compagne dalle galere, fuori le compagne dalle galere, dentro tiriamo col tuo cantiere.